Questa settimana è possibile ottenere uno sconto del 30% o persino vincerne uno del 50% con un post come questo. È un'iniziativa per premiare voi che mi avete supportato in passato. Postate qualcosa dove sia visibile uno dei miei prodotti. Oltre a taggarmi, per farvi notare, perché poi vi scriverò in privato con il codice sconto, sarà importante anche taggare il prodotto. Una volta selezionato il clip, andiamo a taggare il prodotto. Ecco qua, tagga prodotto. Lo apriamo, si scrive Skate Therapy e si seleziona il prodotto della foto o del vostro video. A seguire, non è indispensabile, ma potrebbe farvi piacere, potete anche richiedermi la collaborazione. Quindi andiamo qui dove si tagga normalmente una persona e clicchiamo Invita. Questo passo è importante farlo alla creazione del post perché non è possibile farlo successivamente. Una volta invitato, io vi riposterò su SkateP, è importante, invitate SkateP, non Skate Therapy, e tutti i mi piace e le visualizzazioni arriveranno direttamente sul vostro account. Tutte queste istruzioni le trovate anche nella descrizione di questo post.